Meno ricoverati negli ospedali, soltanto 5 in terapia intensiva, Caltanissetta 66 in degenza ordinaria, si abbassa il numero dei contagi, il numero degli ingressi negli ospedali, ma si contano ancora decessi, 3 nelle ultime 24 ore. E intanto sono 5.504 i positivi in degenza domiciliare in tutta la provincia, la metà rispetto a 10 giorni fa se ne contavano più di 10.000. Nel capoluogo sono 1.218 i positivi in quarantena domiciliare, 12 i ricoverati restano molto alti i numeri, mentre invece si abbassano quelli di Gela con un grosso numero di pazienti che sono guariti, 1.561 i gelesi in quarantena domiciliare, 22 ricoverati in malattie infettive, 3 ricoverati in terapia intensiva. Sono 330 i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore e 100 a Caltanissetta.